Il Cristo, il Cristo, il Cristo, il nostro Signore. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te, sono io. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Grazie a te, sono io. 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 Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.